ciao a tutti bentornati a un altro episodio di sedute comode oggi parliamo di post social nello specifico parliamo un po di post facebook e quali si possono fare in questo periodo e parliamo di questo argomento soprattutto perché se il 2020 ci ha insegnato qualcosa sicuramente abbiamo imparato che il calendario editoriale social non riesce a durare per più di due mesi questo perché ovviamente che i cambiamenti ci sono ogni giorno parliamo di post che si possono inserire benissimo in questo contesto che continua a cambiare e a mutare ogni giorno vediamo insieme post che riguardano foto argomenti che poi pubblicare raccontare e in questo momento possiamo affrontare e parlare con i nostri followers con i nostri clienti che ci seguono con i nostri ospiti che seguono sempre la nostra pagina facebook in questo momento e cosa possiamo raccontare sicuramente possiamo raccontare e com'è la giornata in questo momento davanti all'hotel quindi possiamo magari fare una passeggiata e se abbiamo l'hotel in una posizione che può essere quella davanti al mare davanti a una spiaggia diamo il buongiorno ai nostri ospiti e facendogli vedere veramente com'è quella giornata può esserci il sole può esserci un tramonto particolarmente suggestivo raccontiamo veramente che cosa sta accadendo ok non ho un hotel davanti al mare posso avere anche un hotel che è nord italia magari e in questo momento c'è la neve sta nevicando voglio condividere raccontare ai miei ospiti quello che sta accadendo che quindi può essere benissimo una giornata di neve e raccontiamo quindi quello che sta accadendo intorno all'hotel un momento comunque tangibile che i nostri ospiti percepiscono come tangibile perché sanno che è reale e pubblicato comunque da noi quindi che abbiamo scattato la foto siamo usciti e abbiamo voluto raccontargli questo particolare momento della giornata altro argomento che ricade sempre in questa tipologia di poste chiamiamoli post in real time o comunque post che raccontano un momento in tempo reale può essere un selfie quindi facciamo vedere il viso facciamo vedere le nostre facce agli ospiti sicuramente se abbiamo un albergo stagionale i nostri ospiti non vedono l'ora di vederci in primo piano e perché sappiamo che in questo momento comunque l'hotel sarebbe chiuso e quindi è un po' magari che non si vedono proprio di persona no chi è abituato a vedere l'albergatore durante la sua stagione di norma in questo periodo comunque non ci vedrebbe quindi ha piacere di rivedere la nostra faccia e far vedere la faccia comunque conta sui social anche su facebook perché in questo momento ricordiamo stiamo parlando prettamente di questa piattaforma quindi va benissimo pubblicare post dove facciamo vedere dove ci facciamo vedere in primo piano con un selfie o con una foto scattata da qualcun altro che ci ritrae davanti all'hotel magari dove stiamo seguendo i lavori di ristrutturazione o sempre davanti a quel panorama di cui abbiamo parlato prima e in quanto alle persone comunque piace molto vedere quindi un viso familiare anche su facebook e questo di base perché comunque il viso dà un particolare senso di fiducia quindi se paragoniamo due foto quindi una in cui non c'è nessuno o mare magari può essere bellissimo sì ma senza e senza nessuno comunque possono dare dei risultati diversi foto con te foto senza di te non c'è niente meglio o peggio ci può essere quello più adatto a te e al tuo stile e quello un po meno adatto e anche in questo caso possiamo vedere dei dati leggermente diversi abbiamo visto comunque pubblicando dei post con due soggetti diversi come abbiamo detto adesso quindi magari un video dove viene ritratto il mare può essere un mare di cattolica il mare di rimini il mare di rizzone senza nessuno descrivendo solo la giornata oppure un video selfie chiamiamolo dove raccontiamo in prima persona quello che sta succedendo quindi raccontiamo diamo il buongiorno vediamo comunque con questi dati qui che la differenza effettivamente c'è nel video dove è presente la persona comunque l'albergatore conosciuto comunque tra tra i suoi ospiti le visualizzazioni sono molto molto di più e anche la copertura del post è maggiore quindi il numero di persone che hanno visto questo post è maggiore rispetto a quello che era il video senza nessuno in primo piano ripeto sono solo dati che servono in primo piano a vedere quanto effettivamente la persona produca dei cambiamenti all'interno dei post in più fa sempre piacere vedere che comunque mettersi in primo piano è così insomma viene apprezzato e ricadono in questa tipologia di post anche foto dello staff sappiamo che in questo momento comunque la sensibilità sui social è molto molto alta quindi per comunque pubblicare scatti che siano contestualizzati al momento storico che stiamo vivendo è sempre utile pubblicare foto con mascherine alla dovuta distanza uno dall'altro comunque se l'hotel è aperto in questo momento pubblicare un selfie o una foto dello staff al lavoro e raccontargli quelli che sono le attenzioni e gli accorgimenti del momento va benissimo così come va bene e riprendere una magari foto scattata al tempo del servizio fotografico che riusciamo a contestualizzare comunque quindi può essere una foto con i ragazzi dello staff uno a distanza dall'altro ricade in questa tipologia di post che è quella del racconto del momento reale e tangibile anche il racconto di quello che fanno i ragazzi dello staff quindi se l'hotel è aperto va benissimo pubblicare foto dei ragazzi dello staff al lavoro che può essere in cucina può essere in sala e in questo caso ricordiamoci di fare foto comunque con mascherina ognuno a distanza dall'altro e questo soprattutto perché la sensibilità sui social sappiamo essere molto molto alta e comunque vogliamo far vedere che lavoriamo in sicurezza e attenendoci a tutte le norme del caso e quindi se l'hotel è aperto va benissimo pubblicare foto, scatti, selfie presi sul momento non dobbiano essere perfetti anzi sappiamo che i social spesso e volentieri ritraggono anche l'imperfezione quindi l'importante è rappresentare quel momento tangibile per gli ospite e nel caso in cui l'hotel invece sia chiuso va benissimo anche riprendere foto più vecchie dello staff perché andiamo comunque a ricordare all'ospite quel particolare rapporto di fiducia che si è già instaurato specifichiamo nel testo del post che si tratta di un ricordo quindi nel caso in cui non abbiamo delle mascherine sappiamo che è un ricordo passato e andiamo a stimolare il desiderio di tornare in vacanza con noi anche in questo caso abbiamo visto che pubblicando foto quindi ricordo diciamo con lo staff i risultati insomma i dati ci danno ragione questi qui i dati di foto pubblicate senza mascherina ma ricordiamo che sono foto del passato quindi foto di vecchie stagioni in cui semplicemente invitiamo al contatto e al tornare con noi in vacanza quindi questo è tutto abbiamo ricapitolato le tipologie di post in tempo reale e ci vediamo alla prossima puntata e ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti